Suor Loredara, il suo impegno in questo momento è molto sentito e molto forte perché chiaramente lei è la responsabile dei migrantes della Diogesi e quindi sicuramente conosce bene la situazione che c'è. Che cosa ha detto Monsignor Savino quando è entrato? Veramente siamo entrati in pochissimi, con un permesso della Prefettura per breve tempo e là non ci sono parole, soltanto silenzio. Non c'è da proferire nulla. Abbiamo pregato, Monsignor Savino ha fatto una preghiera per tutti i defunti ma anche per coloro che sono sopravvissuti, questo sì. Ma lì dentro regna il silenzio, davanti a quelle bare e quelli dei piccoli. Non c'è nulla da dire. Forse ci sono domande profonde per ciascuno di noi. C'è una domanda bella che Dio fa a Caino dopo la tragedia del fratello e gli dice dove è tuo fratello? Gli domanda conto del fratello. Forse questa è una domanda che oggi potrebbe interpellare ciascuno di noi. In ospedale qual è la situazione? La situazione è che ci sono diversi feriti, alcuni meno gravi, con ferite superficiali però chiaramente sotto shock. Sicuramente ieri erano in uno stato anche di ipotermia, però si sono anche ripresi. Altri invece hanno riportato delle ferite più serie. Anche i bambini stanno piuttosto bene. Uno in particolare un po' più grande è messo un po' male. Soprattutto credo da un punto di vista... è proprio sotto shock. Guarda nel vuoto. Un altro è pieno di contusioni, molto pieno di graffi, diciamo ferite. Gli altri due stanno abbastanza bene. Ho l'impressione come se qualcuno li avesse protetti. Ci racconta la storia di quella mamma invece che piangeva perché non aveva trovato i figli e poi c'è stata questa grazia. Sì, questa madre tra l'altro tra i feriti più seri e preoccupanti. Lei continuamente gridava chiamando i figli. Per diverse ore abbiamo pensato tutti che tutti e due fossero morti perché non era giunto nessuno né in ospedale né tra quelli che erano già andati al cara. Poi fortunatamente si è riuscita a identificare un bambino di cui non era stata fatta subito l'identificazione, era proprio uno dei figli. Per cui questa nonna è passata dal pianto a un leggero sorriso quando ha potuto vedere tramite videochiamata il figlio che era già su però poi per esplodere nuovamente in un pianto a dirotto.